Ciao a tutti ragazzi, oggi come avete visto dal titolo parliamo di una mod meccanica, un tubo meccanico, l'MK2 Gammon di Cypher Mod. Questa mod era acquistabile in quattro differenti versioni, singola, quindi solamente il tubo da utilizzare in singola batteria, singola con la valigetta Pali che adesso andiamo a vedere, Stacked e Stacked con valigetta Pali. Io ho preso per collezione naturalmente la versione completa di tutto, quindi Stacked con valigetta Pali. Ho parecchie cose da dire quindi andiamo subito a vederlo da vicino e dopo ci rivediamo per due, svapate come al solito. Questa è la confezione in cui vi arriva l'MK2 Gammon in configurazione completa come quella che ho preso io, quindi singolo più Stacked più appunto confezione. La confezione è una valigetta Pali, la vediamo, adesso è molto ben fatta e resistente, comprende anche un moschettone per un eventuale aggancio ad esempio a zaino oppure ad una cinta. Qui notiamo il marchio Cypher MacMods ed il nome appunto della mod MK2 Gammon, andiamo ad aprirla. All'apertura della valigetta troviamo un foglietto illustrativo contenente appunto alcuni consigli per l'uso, come ad esempio che è vietato l'utilizzo a minori di anni 18, che bisogna controllare l'integrità del dispositivo prima di ogni utilizzo, che non va messo in acqua o comunque sotto la pioggia, che non va manomesso. Viene consigliato di utilizzare il dispositivo con resistenze superiori a 0,20 Ohm. Cosa importante come tutte le mod meccaniche, bisogna utilizzare atomizzatori che abbiano il pin sporgente e naturalmente non fluttuante e come sempre batterie ad alta scarica 18,6 e 50. Abbiamo il cartellino con il numero seriale, in questo caso lo 0,63. Dietro è presente il sito, ci ricorda che è una mod completamente made in Italy e la firma del modder. Togliamo questa parte ed ecco qui l'MK2 Gammon in versione Stacked come mi è stato consegnato. Adesso andiamo a vederlo per bene. Allora, prima di estrarre il tubo mostro subito questa boccola di ricambio che ci viene data, dopo vedremo dove va. Questo è il tasto da utilizzare per la versione singola batteria e questa è la mod. Mettiamo via l'involucro. Smontiamo l'MK2 Gammon dalla prolunga Stacked in quanto lo vediamo prima in singolo. Mettiamo via la prolunga. Allora, questo è il tubo, questo è il tasto e questa è la boccola. Mentre me lo mostro voglio darvi un paio di specifiche. Allora, il tubo di per sé in versione singola misura 72 mm di lunghezza. Il diametro del corpo è di 28 mm che sono poi 24 all'attacco dell'atomizzatore, quindi con un atom da 24 non avremo nessun problema. Vediamo nel frattempo qui sopra che è presente l'incisione del numero seriale. Altre specifiche sono che il peso in singola batteria è di soli 160 grammi, quindi molto buono. Una volta che andiamo a montare lo Stacked diventa tutta la mod, diciamo che passa da 72 mm di lunghezza a 136 ed il peso passa a 345 grammi. Un peso abbastanza importante dato appunto dalla prolunga Stacked. Io l'ho utilizzato anche in questa versione e comunque non mi dà nessun problema per il peso che può sembrare eccessivo. Allora, parlando un attimino di materiali, proviamo a vederlo anche dall'interno. Il corpo del tubo è tutto in rame berilio cromo ed è rivestito come si vede in ceracot. Il ceracot è un materiale che dona una bella finitura, dà molta protezione, bisogna soltanto stare attenti che non si scheggi, quindi per l'utilizzo di questa mod bisogna prestare un pochino più attenzione. Io sono solito prestarla sempre con tutte le mod meccaniche, per fortuna non me ne è mai caduta una e qui bisogna prestare un attimino di più perché si rischia che magari si scheggi se colpisce qualche altro oggetto o si graffi se lo mettiamo in tasca insieme a dei materiali come possono essere chiavi o altro che possono portare appunto a rovinarsi il pretempo della finitura in ceracot. Allora, vediamolo un attimino per bene. Il tubo è molto semplice, attacco 510 classico, qui abbiamo la filettatura per il tasto, il tasto ha i due soliti fori di sfiato, tutto rame, andiamo a montare l'anello estetico. Dunque, come avete visto il tasto è fisso, non è come i classici tubi che attiva da sotto, attiva questa lamella che vediamo qui con questo leggero movimento. La boccola interna che è praticamente questa che avete notato qui, questa ruota, è una boccola che ruota e serve a bloccare il tubo in modo che non attivi involontariamente. Quando è in questa posizione si legge che per il safe, quindi la sicurezza va ruotato in questo modo non attiva. Per attivare va ruotata nuovamente. Questo anello di sicurezza che abbiamo appena visto è in acciaio 303 rivestito in DLC nero. Praticamente non si consumerà mai durante queste rotazioni e quindi durerà per parecchio parecchio tempo. La boccola trasparente che abbiamo montato prima, ovvero questa qui che si utilizza sia per la versione in singolo che per la versione in staked. Adesso la smontiamo piano piano. Eccola. Questa boccola è in polimetilmetacrilato, detto anche PMMA, è un materiale plastico. Guardiamo un attimino le incisioni che sono presenti in diversi punti della mod, anche qui. Allora, le incisioni sono fatte a laser sul ceracot ed anche sul rame sottostante per un decimo di millimetro di profondità. Adesso noi andiamo ad assemblarlo con su il GUM24 da utilizzare in singola batteria o su una Fused GVBuild da 0.16 in Nicrom. Una volta che abbiamo la nostra batteria, siamo pronti al montaggio. Allora, questa boccola qui è quella che abbiamo visto nella confezione che ci viene data anche come parte di ricambio. Quindi basterà svitare queste tre viti e sostituirla nel caso in cui si rovinasse. All'interno la parte che vedete luccicante di lato è praticamente una sleeve anticorto come la abbiamo anche nella parte in staked. È la stessa. Si può rimuovere una volta che viene tolta questa boccola. Il tubo di per sé non ha bisogno di grande manutenzione perché comunque il ceracot esterno protegge da tutto. Si può giustamente ogni tanto dare una pulita alla lamella di contatto anche se non c'è realmente bisogno perché comunque ho visto che anche durante l'utilizzo non c'è ossidazione, non succede nulla. Però proprio volendo possiamo dare appunto una leggera pulita alle parti in rame come in ogni mod. Andiamo ad inserire la batteria con il polo positivo verso il basso come sempre. Accoppiamo questa parte e ruotiamo fino a che vada imbattuta. Non c'è bisogno una volta che è serrato ovvero così di premere ulteriormente in quanto rischiamo solamente di andare a rovinare il pin positivo della batteria per troppa pressione. Allora io cos'altro volevo dire prima di farvelo vedere. La mod è molto particolare, è piccolissima, come si vede è veramente veramente piccolo, comodo, maneggevole. L'attivazione come detto avviene da questa lamella, quindi premendo la lamella. In modalità di sicurezza possiamo premere quanto vogliamo che non attiva nulla. Adesso il vapore che vedete è il residuo dell'attivazione precedente. La lamella è importante sapere che ha una memoria elastica quindi non si deformerà neanche con il tempo. Un'altra cosa bella di questa mod secondo me è che praticamente avendo la batteria sempre compressa non c'è possibilità di archi voltaici. Anche perché venendo utilizzato lo stesso materiale per il contatto della lamella con appunto la parte che va a contatto sotto del tasto in quanto il materiale è lo stesso tipo di rame, si riduce veramente al minimo la possibilità di archi anche tra questi due che sono appunto due parti che vanno a contatto ma di un materiale anti scintille. Questa è una gran cosa per chi utilizza spesso tubi meccanici in quanto tutti abbiamo avuto a che fare con gli archi voltaici sulla batteria. Adesso se io tolgo il blocco vado a premere il tasto è quasi touch perché la corsa della lamella è di soli 0,8 mm. Adesso lo chiudiamo, una prova di svapo la vediamo dopo, lo smontiamo nuovamente e andiamo a vederlo in modalità stucked. Via la batteria, via la boccola perché ci serve da montare su questa parte. Cambiamo atomizzatore con uno su cui ho fatto una resistenza appunto per l'utilizzo in stucked. Non ho utilizzato una coil complessa stavolta ma semplicemente 10 giri di Nikron 22 gouge su punta da 3,5. È venuta una 0,28 finale. Un mio consiglio è sempre quello di utilizzare batterie separate per l'utilizzo in singola e per l'utilizzo in serie. Io sono solito accoppiare delle batterie che utilizzo solamente nelle mod in serie o in parallelo, in modo che viaggiano sempre insieme. Fuori di sfiato presenti anche nella prolunga, come le incisioni e tutto quanto, polo positivo in basso, polo positivo in basso e andiamo ad accoppiare ruotando questa volta la prolunga. Sempre senza forzare, attivazione e questo è il gammon. Così diventa nettamente più pesante naturalmente ma è comunque molto comodo perché avendo l'attivazione qua possiamo tenerlo in mano e attivare praticamente con qualsiasi dito, a seconda di come meglio ci troviamo. Quindi non abbiamo bisogno di tenerlo in questo modo per attivare da sotto come con le normali mod a cui siamo abituati, soprattutto per quanto riguarda lo staked. Io non ho altro da aggiungere, andiamo a farci due svapate così lo vediamo un attimino sia in singolo che in staked e poi traiamo un paio di conclusioni. Gammon, singola batteria, di che parliamo? La resistenza non è assolutamente una build da cloud, è una build da flower che però si difende molto molto bene. Se volete fare due nuvoloni come si deve, smontiamo il tasto, scusate la nube ma come detto ci metto poco a riempire la stanza con delle mod che erogano in questo modo nonostante la batteria non sia assolutamente a piena carica, la sto usando da ieri, sostituisco le batterie con una coppia fatta per la serie, non serro tutto perché devo cambiare l'atomizzatore altrimenti facciamo le fiamme, montiamo il cosmonaut, andiamo in battuta, sicurezza. Con questa build non si possono fare tiri esagerati perché il vapore diventa subito caldo, il cosmonaut è un atomizzatore anch'esso da flower non da cloud, purtroppo ho provato a buildare qua sopra ieri sera al volo giusto per avere una build da utilizzare in staked per questo video, per questa recensione, è molto ignorante, posso anche farvela vedere, è veramente ignorantissima nonostante sia una coil semplice e non una custom a fili composti. Veramente una potenza senza senso, non è la prima mod in serie che ho, non è il primo tubo in serie, questo eroga in un modo assurdo e costante, mi sono reso conto che partendo da, utilizzandolo in singola naturalmente, quindi singola batteria, partendo da una piena carica 4.2, ci ho svappato parecchio tempo durante la giornata, sono arrivato a portare le batterie a 3.5 senza notare cali drastici. Come succede su Totem? Totem si nota ancora meno, qua è di nuovo ora di drippare, perché comunque con una build del genere che vaporizza in questo modo, nonostante la parte di cotone coperta dal filo sia molta, si rischia di andare in secca facilmente. Io lo utilizzo principalmente in singola batteria, perché è comodissimo da portarsi dietro, è piccolo, maneggevole, rimane nascosto nella mano, dopo lo vediamo nuovamente. Non è mia intenzione a offuscare la camera col vapore, ma qua dentro non si vede quasi più nulla, sono 30 metri di salo. Rivediamolo un attimo nell'utilizzo, a me più consono che è il singola batteria, smontiamo la boccola, la montiamo sul tasto per la singola, cambiamo l'atomizzatore e rimettiamo il gun di prima, batteria da utilizzare in singola, abitiamo il tasto, sempre senza fare troppa pressione, quando sentiamo che arriva alla fine, smettiamo, la mod rimane nascosta praticamente in mano, l'utilizzo a me più comune è attivare con il medio. Che altro dire? Un prodotto tutto italiano, molto ben fatto, potrei fare una sorta di premessa anche se siamo a fine video, io quando lo vedi le prime volte non prestai tanto entusiasmo, non mi sembrava niente di che ecco, però mi sbagliavo, è una signora mod, la sto utilizzando come detto da un po' di giorni, mi piace sempre più. Non ne posso consigliare l'acquisto, in quanto ne sono stati fatti 200 pezzi di questa prima batch, e a quanto so dovrebbero essere stati tutti venduti, forse c'è possibilità di trovare ancora qualche pezzo in fiera al Vapitali di Verona, che sarà tra due settimane, il 20 e il 21 di maggio, però vale tutti i soldi che costa, questo è il mio pensiero. Io non aggiungo altro, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, qualsiasi domanda me la fate o in privato nei commenti, come al solito. Io con l'ultima svopata vi saluto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!